Ciao a tutti, ciao a tutte, ben trovati alla settima puntata di Tintoria, Tintoria è il podcast di Daniele Tinti, io sono Daniele Tinti e l'ospite di questa puntata è Luca Ravenna. Ciao, ciao a tutti. Allora, Luca Ravenna che io ho incontrato per la prima volta, come ho conosciuto Luca Ravenna? La prima volta che mi sono accostato alla stand-up comedy con un ruolo attivo, la prima volta che ho provato a salire su un palco, era a un open mic all'Oppio Caffè nel 2014. Era il 19 febbraio del 2014. Nel 2014 e casualmente quel giorno anche Luca Ravenna decideva di provare a fare stand-up comedy nello stesso posto. e quindi ci siamo incontrati e abbiamo intrapreso insieme nell'avventura della stand-up comedy. Particolarità di Luca rispetto agli altri ospiti di Tintoria è che io e Luca siamo amici, quindi la conversazione sarà un po' diversa perché non ci sono io che chiedo cose a Luca perché più o meno le cose riguardanti la comicità le abbiamo affrontate insieme comunque ci siamo già confrontati e quindi sarà necessariamente un po' diverso. Comunque, Luca Ravenna, comico, autore, sceneggiatore e interista e infatti come cosa sperimentale volevamo parlare un po' di calcio perché c'è questa cosa nella comicità e Luca lo diciamo sempre che ai comici non gli frega niente di calcio non ci sono comici appassionati di calcio e dello sport in generale dimmi un altro che ne sa qualcosa Francesco De Carlo forse sa un po' di sa un po' di football americano sa un po' di football americano tifa la Roma ma solo per scopare quello è sempre, funziona sempre tifare una squadra per scopare poi la Roma eh sì sì esatto e no è vero poi c'è Pietro Sparacino che è un po' juventino eh beh giustamente venendo dalla Sicilia esatto e infatti pure Emanuele Pantano è juventino un po' però poco non è interista non credo forse mi sbaglio però in assoluto non ci sono veri tifosi Michela Giraud si è tatuata la lupa sul polso ma lasciamo i commenti a chi potrà seguirla su Instagram a vedere quello splendido tatuaggio lei è grande tifosa della Roma io l'ho scoperto quando si è fatto il tatuaggio la conosco da quattro anni e lei però sarebbe pronta a dire non è vero Lu non è assolutamente vero lo sai benissimo che io per la Roma che è nata la prima squadra di Roma no no Michela la prima squadra di Roma Michela avrebbe ragione tra l'altro si è fatta il tatuaggio dopo Roma-Barcellona 3 a 0 quarto di finale Champions League di ritorno partita che io ho avuto la fortuna di vedere allo stadio in quel momento si è aperto uno Stargate si è entrato in un mondo parallelo in cui tutto è possibile il rumore che avete appena sentito è quello del mio cane che è venuto a portare una pallina pesantissima per giocare quindi adesso io metterò al volo in pausa il podcast e poi riprenderemo istantaneamente oh perfetto il cane è stato messo in punizione e possiamo continuare a parlare di calcio diciamo la Roma ha battuto 3 a 0 il Barcellona dopo aver perso 4 anni all'andata e si è qualificata per le semifinali di Coppa dei Campioni dove è stata eliminata dal Liverpool e con Luca io proprio di questo volevo parlare gli ho detto che ne avremmo parlato e che lui ha detto che appunto si è tenuto i commenti avevamo iniziato un po' a parlarne avevamo parlato di questa partita veramente da romanisti in cui batti 4 a 2 una squadra e comunque si è eliminato perché hai perso 5 a 2 all'andata sì sì io l'ho vista da degli amici abbastanza romanisti non delle bestie nel senso per bestie intendo non delle persone che ci avrebbero perso la settimana e io sono molto tifoso dell'Inter e mi bullo della vittoria e penso che lo farò per tutta la vita questo è un game 23 nell'arco di 50 anni di Coppa dei Campioni però l'altra sera sono rimasto molto impressionato dal fatto che mi sembra che tutta l'energia fosse stata bruciata un po' con il Barcellona parlando con un mio amico molto milanista che di Coppa ne ha viste 5 e abbiamo la stessa età abbiamo 30 anni lui diceva ma non hanno mai imparato che la scaramanzia nello sport serve in effetti a ripensarci forse il tuffo nella piscina del presidente per un quarto di finale capisco il delirio però una puntina guarda secondo me invece per Roma va benissimo così cioè nel senso questa è una città che talmente tanto si vive la pezza della partita la pezza della vittoria la pezza della sconfitta talmente tutti stanno tanto male che se il presidente è americano e non gliene frega niente va bene così tanto poi la gente sta talmente tanto male io calcolo che l'approccio che avevo a Roma-Liverpool la chat con cui ho organizzato la visione di Roma-Liverpool si chiamava Roma-Liverpool 4-0 perché io ho deciso che da dopo Roma-Barcellona questo che io adesso ogni volta che la Roma gioca penso che la Roma passerà il turno a vincere la partita quindi serviva fare 4-0 3-0 4-1 e io ero convinto che la Roma ce l'avrebbe fatta e ce l'avrebbe fatta e la catastrofe è che la Roma ha fatto 4 gol al Liverpool solo che ha anche fatto fare 2 gol al Liverpool non ho mai avuto l'impressione che la Roma sarebbe potuta passare però cioè vedendo la partita non ho mai avuto io non percepivo la tensione di adesso succede il patatrac e la Roma fa 3 gol di fila se li scanna cosa che tra l'altro poteva tranquillamente succedere che il Liverpool era la squadra meno forte dei 4 addirittura forse meno della Roma e a parte ovviamente in attacco che raramente si è visto un tridente così cioè così ben tirato su erano proprio perfetti e e basta c'è da dire che dall'altra parte Barcellona Real e Bayern Real giocavano a un ritmo di intensità con una furia che non lo so il Liverpool come farà a Kiev a resistere però non ho mai avuto quell'impressione va detto che quell'impressione uno ce l'ha se la partita si mette a tuo favore invece la partita è iniziata e tu il tuo miglior giocatore tra virgolette che è Nainggolan la passa a un giocatore del Liverpool e tu vai sotto 1-0 è una partita che devi vincere con 3 gol di scarto è un casino cioè tu cominci la partita e già diventa impossibile però glielo fai subito dopo 5-6 minuti hai fatto il pari poi e poi loro te lo rifanno cioè nel senso pure l'andarsi alla partita era proprio una sentenza e poi a quel punto il panno sì esatto al secondo tempo da succedere un miracolo che è successo a metà c'era il rigoretto il rigoretto c'era un rigore ah sì quello del fuorigioco però il fatto che aveva fischiato il fuorigioco quindi però l'altro era proprio l'altro era greve disastrosamente calce di rigore e si vedeva nel senso che se l'avesse preso in faccia l'avrebbe decapitato il Sharaw invece l'ottimo terzino del 97 di Liverpool ha fatto finta di nulla e questo è il bello del calcio però io sono contrario alla VAR proprio il 100% e invece il presidente Pallotta è andato là a dire è ridicolo ed è ridicolo effettivamente sì cioè che su alcune decisioni non ci sia nel 2018 adesso al di là di quello che è successo alla Roma io lo trovo ridicolo cioè nel senso sì però con il Barcellona non avete avuto un rigore a favore che c'era e poi è stata fatta l'impresa nel senso che è bello per me almeno il bello del calcio pur ti fanno l'Inter che è una squadra nota per essere avere dei tifosi molto piagnucoloni il bello è che tu vai dal potente e paghi il fatto di essere andato dal potente e ti trattano male ma se fai l'impresa vale 100 volte di più e lo dico dopo Inter-Juve dove ce l'avevamo fatta e invece no e invece no e invece anche quest'anno la Serie A si conferma campionato bruttissimo sembrava per un attimo che non fossimo il campionato tedesco invece siamo al campionato tedesco sì anche lì una puntarella non dico di scheramanzia però è andare in 10.000 a Capodichino dopo che hai battuto la Juve vabbè ma pure quello che devi fare no lo so il fatto è che essendo del nord ti fanno per una delle tre squadre che ho vinto di più ovviamente sei un pelo più abituato e quindi non so come dire aspetti un attimino eh lo so però secondo me non lo puoi fare cioè nel senso proprio non ci riesci è inevitabile ci sta ti prepari ti sale ti sale proprio non ci puoi fare niente era un bello spettacolo era un bello poi tutt'Italia tutt'Italia che conta ha tifato Napoli con una furia sì mai vista il bello è che io che vivo nel mondo post Roma-Barcellona 3-0 io penso ancora che il Napoli possa vincere lo Scudetto poi so benissimo che la Juventus vincerà il settimo Scudetto di fila non c'è nulla che impedirà alla Juve di arrivare al suo settimo Scudetto però eh sarebbe bello andare a piazza in piazza San Carlo a Torino e sentire ma ci avemmo vinto un'altra volta perché è proprio una cosa brutta cioè io i Juventini che conosco la sera di Inter Juve una partita beh anche bella da vedere nel senso poi hai vinto 6 Scudetti e ti stai giocando molti che conosco erano a cena a fare una passeggiata e allora che cazzo ti fia a fare nel senso questo è proprio tipico loro sì 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 e adesso vediamo l'associazione con l'Esser Calabresi assolutamente l'ho fatta io no certo lo stereotipo che molti calabresi sono i Juventini non è mai vero no no assolutamente no no e invece la Serie A la vincerà a Juventus quasi sicuramente oh e invece secondo te come la vedi questa corsa Champions dell'Inter secondo me vabbè finiremo se tutto va come deve finiamo a giocarcela con la Lazio all'ultima perché la Lazio deve inciampare quella pippa di Mazzarri il sosia di Schettino è riuscito a perdere con la Lazio in casa e è veramente uno degli allenatori che ho odiato di più nella mia vita e secondo me ce la giocheremo con la Lazio all'ultima giornata e io sono stato una volta all'Olimpico a vedere una partita con la Lazio all'ultima giornata tanti anni fa e tra l'altro l'anniversario cade domani è vero domani sono 16 anni sì 16 anni fa oggi ero a Orvieto con mio padre e ok insomma tu hai vissuto adesso tra cose Barcellona per noi che allora non vincevamo uno scudetto da 13 anni io mi ricordo stavo iniziando il liceo il 4 maggio del 2002 per me è stato uno dei giorni più più belli e dei quali se ne parlo ancora un secondo mi commuovo della mia vita e il 5 maggio fino alle 3 e 20 è stato bello bellissimo e poi dopo solo orgoglio solo orgoglio e niente più però sì ce la giocheremo con la Lazio e vediamo perché invece ti dico un mio amico romanista che non era allo stadio durante Roma a Barcellona quindi vive ancora nell'altro universo quello precedente a quello in cui ci ritroviamo adesso in cui la Roma va tutto male secondo lui voi non ve la giocate con la Lazio ma con la Roma che crolla con il Cagliari a Cagliari che si deve salvare noi al Santelli abbiamo sempre fatto un sacco di fatica e quindi ci fermiamo però non c'è più conti sì no però noi pure Cagliari è difficilissimo si deve salvare e noi ci fermiamo la Lazio vince a quel punto vince la penultima sicuri del loro posto in Champions si scansano con l'Inter e ci fanno passare esattamente oddio no tutte le volte che la Lazio si voleva scansare con l'Inter una volta una volta l'ha proprio fatto la famosa ONA io ero in Curva Sud a vederla e fu cioè se io fossi stato un tifoso da Lazio non sarei andato allo stadio perché va bene tutto però fischiare il tuo portiere che para c'era Muslera e se avesse continuato a parare come ha fatto nel primo tempo probabilmente gli avrebbero tagliato la gola e invece poi è andata bene il segnato Samuel e boh cambiasso forse non mi ricordo non mi ricordo però ecco andare a tifare contro la propria squadra tifare per l'altra che gioca contro la tua arci nemica è una figata è bellissimo io ho quattro maglie del Liverpool e Roma non è neanche l'altra squadra della mia città però però andare a tifare contro i frappi contro la tua cioè va allo stadio per la tua squadra e la fischi è tosta però loro ricordano che nel 99 a Mendola andò allo stadio non ricordo vedere che partita con la sciarpa del Milan che si stava giocando lo scudetto con la Lazio quindi no sì però è un po' diverso appunto andare con la sciarpa del Milan e tifare contro la tua squadra eh lo so ma qui c'è questa cosa che Roma e Lazio appunto tra l'altro io non dovrei neanche parlarne perché spesso mi ricordano di a non farlo mai sul palco e questo non lo faccio e b in generale Roma e Lazio appunto sunniti e sciti non si toccano sì è un discorso molto a parte discorso tra l'altro io pure colgo poco perché io sono romanista ma non sono cresciuto a Roma io sono cresciuto all'Aquila e quindi non c'ho proprio l'odio che ti viene da bambino perché quello quell'odio ti viene all'elementari quando ti prendi in giro in modo ferro alle medie forse ancora di più quando sei proprio una merda e ti tiri folle cose tra laziali e romanisti proprio i ragazzini si dicono delle cose brutali e quindi covano un odio dentro viscerale che non li può allevare nessuno e visto tra virgolette da esterno fa anche paura cioè vedere come si chiude la vena ai bambini della Lazio quando parlano anche i miei amici della Lazio quando parlano della Roma e viceversa però io non vedo la vena chiusa dei romanisti la vedo solo dei laziali e di solo una vena aperta esatto che dice la verità esatto la voce e la verità romanista contro la menzogna oscurantista bianco celeste è per far paura è quella una cosa che maturi da bambino che è il motivo per cui io ho cresciuto all'Aquila odio la Juve insomma no io essendo cresciuto a Milano in anni in cui il Milan era la squadra non più forte di Milano non d'Italia ma del mondo e che mi ha rovinato le elementari le medie e in modo disastroso il liceo fino alla magia di Istanbul del 2005 quando per chi non lo sapesse il Milan perse la finale di Coppa di Campioni dopo essere stato avanti 3-0 con Liverpool tra l'altro grande squadra e infatti durante Roma Liverpool all'85 diceva vabbè mancano 5 minuti adesso a Istanbul Liverpool ha fatto 3 gol in 6 minuti noi con il recupero facciamo 3 gol e però ne abbiamo fatti 2 eh sì vedi guarda il calcio il calcio è è bello perché è così no? come dicono i sanci però è bello è molto più bello quando vinci ah sì io l'altra sera durante Inter Juve non quando ci ha fatto il gol di Guain lì già era un abbandono proprio della nave ma quando non è stato espulso Piani ci ho strappato un paio di pantaloncini in Barcellona da Rocchi che mi comprò mio padre penso in Catar non so in qualche posto uno di quei posti tra l'altro Catar saluto al nuovo sponsor dell'AS Roma grazie ragazzi sì sì ho visto invece la Lazio continua ad avere Seleco credo di sì credo di sì è una cosa che mi fa molto rire da milanese vedere la rivalità fra Roma e Lazio così forte cioè io vedevo il Milan che era veramente più forte e l'Inter che spendeva soldi e non vinceva un cazzo vedere qui invece Roma e Lazio è uno spettacolo a volte è un pelino esagerato sì ma va detto che il derby di Roma è così sentito proprio perché Roma e Lazio non vincono niente nel senso insieme mettono cinque scudetti in 200 anni di storia non è tanto no non è tanto così erano le squadre nella capitale esatto non è tanto e quindi il derby è la cosa più importante bla 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 però è vero cioè nel senso è importante vincere il derby ecco è lo scudetto dei noantri però invece da noi purtroppo vedevi una squadra che vinceva molti campionati poi dopo hanno pagato poco hanno pagato poco per la merda che hanno fatto e no queste sono cose che nessuno ricorda perché il Milan quando fu quando ha vinto la Champions nel 2007 non doveva farla con la Champions non doveva farla è arrivato secondo fu vabbè poi comunque ha vinto la Champions perché erano veramente forti e ci giocava uno dei giocatori per cui ho una perversione malata tutt'oggi mi rendo conto che è Pippo Inzaghi grande allenatore del Venezia a cui auguriamo ogni bene ogni bene a lui al Venezia e al Parma spero torni in Serie A e se ne vadano quelle squadre inutili devo dire lo Tito disse bene io no è bella la provincia in Serie A no a me fa schifo vedere la provincia però lo Tito lo disse con un filo di interesse la sua parola era quando era salito il frosinone lui parlava al non mi ricordo chi dicendo tu non mi puoi far salire questi io che cosa gli vendo alle televisioni questo era come il signor Claudio Lotito aveva posto era per dire una cosa carina anche sulla Lazio che però purtroppo adesso al di là del gemellaggio che interessa in realtà solo le curve perché ai tifosi normali non gli ne frega niente insomma sono i nostri arci nemici perché ce li giocheremo tutti e non penso che la Roma crollerà perché ha Dzeko perché De Rossi ha le sue ultime tre partite con la Roma secondo me resta l'anno prossimo dopo Liverpool ha proprio parlato veramente da capitano però come un capitano che sta dicendo io smetto di volare sugli aerei da guerra però lì c'è ancora un anno di contratto quindi secondo me resta e se Dio vuole resta a fare la panchina se De Rossi l'anno prossimo ha il titolo della Roma è un problema nel senso io gli voglio bene a Daniele De Rossi per un'età in cui non ha esattamente il motore per tenere il centrocampo sai che è il mio giocatore preferito quindi io De Rossi lo farei giocare con la bombola dell'ossigeno perché è l'unico giocatore italiano negli ultimi anni che faceva gli spot della Pepsi con Gerrard Ronaldinho Fernando Torres quando aveva 16 anni cioè fino all'altro ieri sì e per me De Rossi è veramente veramente un grande l'altra sera ha parlato proprio in modo bello sì 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 ma guarda sono molto orgoglioso di Daniele De Rossi capitano e mi piace mi piace che la Roma abbia ancora questa tradizione di capitani romani e romanisti e il prossimo chi sarà vabbè a parte Florenzi ovviamente Florenzi certo è lui sì è Florenzi sì il prossimo a meno che non lo vendiamo Florenzi è bello limitato calcisticamente sì sì cioè Florenzi secondo me è un'ottima riserva nel senso se ce l'hai come riserva va benissimo se è il tuo titolare se devi giocare alla Coppa dei Campioni e a Florenzi è il tuo titolare non va bene no non va bene così come Pellegrini classe 1996 al momento insomma Roma-Liverpool si è dimostrato non all'altezza ripeto a me mi passa stanotte mi è passato alle due e mezza di notte davanti agli occhi la punizione di Pellegrini contro il Liverpool che invito tutti ad andarsi a rivedere una palla che non lo so ha colpito la finestra la signora Maria a Montemario eh sì era veramente una punizione calciata fra amici che la tiro io perché ho preso il fallo a tiri dove non avresti ma Antonucci invece che è arrivato allo stadio con la Ligie ma il fatto che la Roma abbia fatto due gol al Liverpool con Antonucci in campo è clamoroso tra l'altro che ha fatto un 1-2 e due volte ha tagliato bene poi là ovviamente se riuscirà a indirezzare verso la porta crollava l'universo invece la stoppata è rimandata ha fatto lo stop e raggiunto del Liverpool credo che Antonucci abbia 18 anni credo che faccia il liceo quanto scopa Antonucci beh se non scopa Antonucci poi tra l'altro lui ha proprio il look da romano che però ha un tatuaggio che lascia intendere che potrebbe cioè ha il capello da pariolino però un tatuaggio della centenne che potrebbe essere di sinistra cioè che si rifà a una certa boragine di sinistra quindi comunque io nel dubbio ce volo beh probabilmente gli actual saprebbero cosa fare con Antonucci sì certo è l'unione perfetta della un saluto un saluto agli amici actual con cui ho avuto anche il piacere di collaborare infatti sono veramente i tuoi amici abbiamo presentato insieme una serata e condividiamo la stessa agenzia la stessa prestigiosa agenzia prestigiosa che è la so se è più storia pensavo Cohen e Levi no no niente credo che in Italia non ci stavi per dire niente ebrei niente ebrei no credo che in Italia lo stereotipo americano non ci sia ancora non ci sia sono tanti per ora perché poi insomma l'intrattenimento è in costante evoluzione quindi chissà che chissà che cosa ci aspetta oh e detto questo si è parlato di calcio si è parlato se ne potrebbe parlare se ne potrebbe parlare per ore questo è il bello di questo straordinario paese che è l'Italia che si può parlare per cent'ore di una cosa su cui noi abbiamo zero controllo cioè proprio zero controllo noi assistiamo a uno spettacolo e ne parliamo per infinite ore assistiamo a delle persone che giocano però quante volte per me che non sono romano mi sono trovato in situazioni in cui improvvisamente potevo parlare con qualcuno perché capivano che ero molto appassionato di calcio cioè dici ah ok ammazza però comunque deve essere l'Inter però e boh inizia non un'amicizia però un dialogo ed è un passepartout almeno per gli uomini molto molto comodo però non si può scherzare sul calcio non sul palco molto 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 è difficile cioè se vai in una città a prendere in giro una cosa c'è il video straordinario però quello è diverso di Bill Burr a Filadelfia che sale sul palco quando tutto il pubblico stava urlando contro il comico prima di lui proprio ah vaffanculo fai schifo e lui sale sul palco e insulta tutto il tempo Filadelfia gli abitanti di Filadelfia tutte le squadre di Filadelfia e vince cioè è così che si rivince il pubblico insultandoli per 15 minuti capolavoro e beh storia della comicità storia della comicità storia della comicità 11 minuti di insulti di insulti e la gente ride e lo applaude addirittura a un certo punto insulta Rocky il personale di Filadelfia dicendo voi avevate un pugile di Filadelfia vero avete dovuto inventare questa stronzata di Rocky e no vabbè Bill Burr idolo lui è uno dei grandi comici che parla anche di sport tantissimo in modo super divertente però da loro lui è malato infatti dice proprio cioè è bello quando parla tipo del football ogni tanto gli chiedono ma tu quante partite ti vedi e lui dice vabbè il weekend me le guardo tutte una dura quattro ore esatto poi mi registro me ne registro un paio lunedì c'è il Monday Night martedì mi guardo quella che mi sono registrato mercoledì e poi giovedì c'è l'allenamento di rifinitura venerdì si ricomincia ok Bill tutto a posto sì giovedì c'è la partita in America è un problema per i giocatori perché loro dicono sai come non è come il basket che puoi giocare ogni due giorni ma è il football americano cioè noi rischiamo di morire ogni volta che scendiamo in campo e poi ci fate giocare ogni quattro giorni però business is business eh sì gli americani non ne frega niente dice sì vi facciamo giocare ogni quattro giorni perché poi a fine mese arrivano 980 mila dollari esatto in effetti in effetti dice vabbè la faccio per dieci anni e poi smetto e divento pittore e invece all'improvviso col pennello in mano e ti disintegri tre vertebre e il contratto non è garantito non ti danno più soldi e tu diventi stupido che non hai studiato e non sai fare niente se non colpire delle persone ti sei speso tutti i soldi perché sei un ventenne che viene dal ghetto di Detroit e quindi non hai esattamente anche una cultura economica giustamente non sai gestire mezzo milione di dollari se nessuno nella tua vita ha mai avuto neanche 5 mila dollari ti sei speso tutti i soldi però spesso gli amici di questi ragazzi gli dicono ma no ma guarda cioè cerchi di investire ma apri un mutuo guarda no ma non mi pagare la cena guarda che con la Toyota Prius c'è un bellissimo documentario di ESPN che si chiama Broke che si trova su YouTube che consiglio a tutti di vedere che è molto bello parla appunto degli atleti americani che vanno in bancarotta e la statistica dell'NFL è che il 60% dei giocatori professionisti di football americano entro mi pare 5 anni da quando smettono dichiarano bancarotta pensate delle persone che l'anno un milione di dollari chissà come nel calcio secondo me nel calcio di meno no di meno nel calcio di meno perché uno i contratti sono garantiti cioè nel senso se io ti faccio 4 anni di contratto e tu ti rompi io ti devo pagare tutto il contratto mentre l'NFL c'è questa cosa brutale americana se tu ti rompi è finita cioè tu ti rompi a metà stagione io smetto di io smetto di pagarti per sempre a meno che tu non sia turbo mega super sì no certo quelle 10 persone nella Lega però poi il football americano invece sono un botto di gente perché una squadra è a squadra quindi sono tante persone e quello che guadagna di meno guadagna relativamente poco ma pure di meno una milione cioè tipo un milione di dollari per morire per rischiare di morire non per toccare la palla con i piedi no 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 lì veramente ti fai male ti fai proprio male e comunque è un bel documentario e andrebbe visto però ecco diciamo parlando invece di stand up comedy Luca Ravenna il 15 maggio porta il suo spettacolo In The Ghetto a Roma all'Alcazar 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 questo splendida questo ex cinema che è stato riadattato molto bello tra l'altro ci fanno molti film molto bello sono tornato a vederlo ieri l'ultima volta nonché la prima che ci sono andato ero andato a fare un pezzo di stand up per una festa di un'agenzia pubblicitaria e ho subito quella che può tranquillamente essere definita una molestia sessuale sul palco da un spiritosissimo come si dice uno che lavorava nell'agenzia che mentre stavo con fatica cerchendo di portare a termine i miei 15 minuti perché a loro non gliene fregava un cazzo di ascoltare come è giusto che sia alle feste di Natale tu Daniele me lo insegni certo a un certo punto ho detto no vabbè devo troppo fare sta cosa io pensavo ma mi sono fatto una battuta gli ho dato il microfono e lui mi ha afferrato il pacco come se fosse stato Benigni e io Pippo Baudo e a quel punto ho lasciato giù il microfono ho urlato me too e me ne sono andato con un sacco di soldi però poi ho conosciuto ieri ho parlato con una ragazza che organizza lì e mi ha detto che quel tipo è stato cacciato dalla festa perché era troppo su di giri come si suol dire ah su di giri su di giri c'erano dei nasi io ora vedevo al buio c'erano dei nasi che stavano sembrava un numero di stomp quello che fanno con gli zippo tutti scintillanti giustamente era sotto Natale quindi tutti a Rudolf era arrivata alla tredicesima giusto giusto ma le feste aziendali spesso sono caratterizzate da persone su di giri sono molto difficili per noi ci è capitato di farne anche una insieme abbiamo fatto un insieme in un ristorante di un albergo è stato bellissimo non si sentiva quello che dicevamo perché c'era una piccola cassa alle nostre spalle per una sala con 120 persone una sala lunga 30 metri non è stato bellissimo noi ci siamo esibiti mentre mangiavano cioè tra il primo e il secondo esatto il momento in cui gli italiani proprio più di tutti vogliono sentire altro è quando mangiano l'unico momento in cui gli italiani sono concentrati su quello che fanno è arrivato il brasato di Manzo allora due battute ma che cazzo vuoi sto commentando il brasato coglione è stato brutale però queste cose si fanno come andare nel Vietnam cioè tu non sai perché il tuo paese sia andato in guerra con un paese di persone che fa gli spaghetti di soia e altre cose che non so del Vietnam lo fai vai muori sul campo con tutto rispetto e muori sul campo e porti a casa i soldi e porti a casa i soldi benissimo così e poi dopo ci fai un pezzo sopra che probabilmente è così che aprirò l'Alcazar cioè parlando di quando sono stato molestato che è la parola giusta se ti afferra nel pacco è una molestia non è colpa mia se non ho la figa però comunque è stata una cosa molestia senza alcun dubbio e tra l'altro io ho il privilegio di fare l'apertura dello spettacolo dove vi invito senza altro a venire e invece volevo parlare un po' di una cosa che è adesso tu sto organizzando una serata tua da solo a Roma che è fichissima in un posto grande dove ci stanno tante persone e quindi ti stai impelagando in una delle più grandi pezze della stand up comedy cioè l'organizzazione perché la stand up comedy in Italia c'è questo problema che essendo una cosa che non è strutturata non c'è una cultura non ci sono le persone giuste addette ai lavori il comico deve fare tutto deve trovare il locale contattare il locale contrattare sul prezzo invitare il pubblico fare la pubblicità che è una rottura di coglioni però qualcuno lo deve pur fare nel senso che meglio se lo facciamo noi noi insieme organizziamo all'oppio gli open mic all'oppio caffè che è il primo dove ci sono esibiti quando facciamo Saverio Raimondo Edoardo Ferrari Francesco De Carlo e eh ma meglio se lo facciamo noi nel senso che no sì certo perché servirebbe gente che lo sa fare ce n'è pochi shout out to Mattia Gourmà miglior organizzatore promoter d'Italia che organizza una rassegna a Padova e Giulio e Jacopo a Milano a Milano però forse ecco Gourmà si porta a casa il trofeo del più bravo organizzare perché perché sì perché ha messo su da solo questa cosa e perché è sempre è sempre tutto molto fico il pubblico è fico il locale è fico paga bene e si sbatte per far bene le persone le persone vengono veramente inattaccabili servirebbero più persone come Mattia Gourmà facciamo un appello ai giovani e alle giovani italiani fate ci sono soldi nella stand up comedy potenzialmente se voi saprete lavorare sì 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 beh ma lui perché a parte lo fatto che è appassionato gli piace molto lavora in un'agenzia che organizza in un'agenzia mi pare lui fa sì che il comico sia messo nella miglior condizione possibile anche se è a un livello che non porta mille persone ancora non gliene frega un cazzo cioè lui ti mette nella migliore e lo dice sempre a me interessa mettervi nella miglior condizione possibile poi se tu fai ridere e insomma per me è bellissimo andare a Padova per tutti noi è bello andare lì bene benissimo tornerai e tutto e la gente cioè è fatto per la gioia la gioia delle persone e la tua spesso invece capita che ci siano ma come normali che siano tutte le cose nuove un po' di persone o improvvisate o che non lo so pensano che noi andiamo lì e spariamo delle minchiate che ci vuole dai ti do sì esatto esatto e invece non è così però sì noi organizziamo è una rottura di coglioni che non cioè grossa perché toglie tempo a fare il comico sì cioè nel senso quella è una cosa che in teoria dovrebbe fare non so l'ultimo ospite del podcast era Carla Paul che lo fa in Inghilterra e lei dice il bello dell'Inghilterra è che è già tutto talmente strutturato che io devo solo presentarmi al locale e fare stand up cioè io dovevo solo pensare a scrivere il pezzo arrivo fanno ciao Carla tu come sai fai dieci minuti da qua a qua perfetto lei si presenta fai i suoi dieci minuti e se ne va fine ma è giusto cioè in America anche agli open mic i comici pagano per i minuti che vogliono fare vuoi fare dieci minuti paghi quindici dollari vuoi ovviamente nelle grandi città ma sicuramente anche nelle piccole città posto il fatto che le piccole città in America non saprei dire tre nomi però ci sta ci sta cioè lo fai è uno sbattimento ti toglie molto tempo è moltissima energia nervosa ovviamente a Milano è più facile farlo per una questione a Milano è più facile fare le cose cioè è più facile organizzare le cose a Milano è una cosa che abbiamo riscontrato nella stand a comedy obiettivamente è più facile penso che sì dal punto di vista del lavoro è talmente competitiva con la città che nel momento in cui uno propone l'altro dice dai va bene lo facciamo subito dai e lo fanno e poi ovviamente se funziona bene se non funziona sono caccia a Roma è un po' più ostico se vediamo certo allora ti faccio sapere te cos'è che fai scusa? ridere ridere fammi una battuta fammi una battuta non mi hai fatto ridere guarda ancora non l'ho fatta è infatti mi sembrava che mi sembrava che non avevo riso no sì a Roma è più complicato è più complicato interfacciarsi con i localari è anche più complicato far venire il pubblico per una questione vabbè i soliti problemi in Roma di spostamenti di volontà spendere c'è anche da dire dall'altra parte che i romani sono molto di base cioè sono persone che hanno la battuta più pronta adesso sembra una minchiata però è vero che sei il tuo barista che ti fa morire a ridere il barbiere che ti fa ridere tu fai ridere dici perché devo andare a sentire uno stronzo che prova a farmi ridere per il gusto della sfida ma è vero che c'è un po' questo pregiudizio di base meno simpatico cioè nel senso sì i milanesi probabilmente sono meno meno proprio divertenti perché poi appunto fanno meno battute si prendono un po' sul serio sì esatto lo vedo spesso quando vado se vado in piscina a Milano io non vado in palestra sarei un bugiardo a dirlo in piscina e in palestra a Milano però lo spogliato è lo stesso Milano a Roma a Roma la gente fa ridere cioè proprio me lo faceva notare Edoardo diceva che a Roma è vero la gente si piglia in giro e a Milano invece senti discorsi wow ho dovuto prendere 4.200 perché sai cazzo comunque dovevo pagarci di tasse e dice l'amico adesso farò una battuta e dirà ma scusa prenditi la macchina 6.000 no invece diceva hai fatto bene hai fatto 1.200 avrei fatto uguale tra l'altro questa è l'imitazione di Giuseppe Pagliano non il mio socio dunque organizziamo il Milano Comedy Club e è vero sì la gente è un po' meno ironica quindi poi magari lavori tanto e diceva adesso mi spendo questi soldi fammi ridere fammi ridere a me piace tantissimo quando veramente esce fuori la Romanità ieri sono andato a giocare a Calciotto a Torbella Monaca e il centravanti della squadra avversaria che era tra l'altro un cristiano di un metro e novanta enorme e a un certo punto il portiere gli sta facendo tutti i rinvii e lui faceva tipo oh morbida 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 a un certo punto il portiere le la tira sul tacco e fa e che ne è morbida questa è una mousse e io stavo nella squadra avversaria ridevo che questi stanno giocando a calcio e pensi di dire è una mousse mi fa proprio ridere si fa molto ridere cosa intendi però adesso mi devi spiegare per morbida ti sto dando una palla precisa no ma sto scherzando è di cuoio è un 4 è un 4 è pressurizzato a norma se vai a giocare col 5 allora vai a giocare con gli altri è vero sì la gente è un po' più simpatica però detto questo è la stand up comedy cioè no? fa ridere fa ridere poi le persone vengono se le persone vengono vanno a vedere i comici bravi tornano sempre soddisfatti ma quanto è bello quando la gente di tutti i commenti possibili anche quando ci sono che capita 10 persone all'altro quando quando ce ne sono molte di più in altre situazioni ti dicono non conoscevo questa roba mi avete fatto molto ridere però quello è quello è bellissimo di tutti i commenti è il più penso che sia il più bello anche perché quelle sono le persone a cui dicevo con Piero Sparacino diceva Piero Sparacino a cui devi puntare la stand up in Italia certo cioè persone che non vanno a vedere queste cose e che invece vengono a vederla per la prima volta gli piace e tornano lì c'è la nostra nicchia di mercato da esplorare beh nicchia eh sì è una nicchia che deve crescere sempre di più per ora comunque è sempre una cosa alternativa non è pop non è mainstream no 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 io penso che lo spettacolo che farà adesso Edoardo al Brancaccio sarà un un turning point cioè nel senso al Brancaccio averlo riempito in due settimane penso che poi essendo lui un comico al di là ovviamente pessimo non andate a vederlo non andate a venite a vedere mai no tanto è sold out quindi nel senso non penso che le persone diranno oh ho speso questi certo questo è molto più del mio andate a vedere Edoardo Ferrari qualora fosse sold out certo per caso andate all'Alcazar e noi con gli scarti faremo uno splendido crumble di questo pane raffermo no scherzo penso che quello spettacolo sarà sarà una una cosa che darà una specie di chiave di volta nel senso che lui è una comicità stradivertente molto trasversale che fa ridere tutti e tutto quanto quindi le persone dicono non scusate ho speso tot per stare in un teatro enorme di Roma e ridere così tanto vedendo uno che parla che parla per un'ora e venti un'ora e un quarto e che roba ce n'è altra nel senso questa è la cosa che devono fare quelli che i nomi più grossi e noi anche che ci esibiamo di fronte al cano no non è vero no però è vero noi che non facciamo il brancaccio noi siamo la seconda generazione siamo usciti da quello per Mike tra l'altro la classe del 2014 la classe del 2014 siamo noi nessuno può vederlo Daniele Tinti ha spostato lo sguardo come a ricordare di quando qualcosa che deve essere successo quella sera per lui ma guarda ti ricordi quel pezzo sulle Clarks quel pezzo sulle Clarks quanti portoni mi ha aperto eh sì sì quanto ci hai scopato in quel pezzo sulle Clarks guarda posso affermare con certezza di averci scopato zero si può dire che con la stand up non si scopa guarda sì si può dire però il problema è che se lo dici poi la gente non ci crede esatto questa è la magia è pure la frustrazione perché soprattutto le ragazze ti dicono ma come no cioè piaci tantissimo quando lo fai piaci tantissimo e dici ma allora poi perché che devo fare e poi qual è lo step successivo ho fatto ridere e poi devo tirarmi fuori il cazzo no ma scusa lui si che è uguale dice no lui ma tu piaci tantissimo lui si tirerà fuori il cazzo quindi e invece no adesso fine carriera no fine carriera no carriera in pausa carriera lui si che tornerà più grande di tutti tutti noi lo stiamo aspettando come il terremoto di Los Angeles tutti noi e tutte noi sì perché perché sì perché è più grande di tutti e si scuserà io credo che lui mi piace pensare che lui abbia capito le cazzate fatte e gli errori commessi e tornerà e ci spiegherà questa cosa in uno special esilarante che metterà tutti d'accordo e secondo me farà crescere l'umanità anche sull'argomento delle molestie quindi mi piace pensare che lui si che troverà la chiave di lettura per cui gli uomini capiranno qualcosa in più sulle molestie grazie a una persona che si tirava fuori il cazzo e si masturbava senza il consenso delle persone davanti a lui che poi quella ovviamente è la discriminante cioè lui si che può giustificare con un pezzo comico l'errore fatto perché l'errore commesso è comunque sia Bill Cosby non può scrivere nessun pezzo cioè nel senso Bill Cosby ma perché ha poco tempo per farlo Bill Cosby a parte che è stato condannato ha violentato esatto Bill Cosby può scrivere il pezzo che gli pare e non far ridere lui si che sono convinto che possa che possa farlo l'ha fatto su lui si che nella sua carriera l'ha fatto su talmente tanti argomenti se vogliamo non scabrosi però veri dell'animo umano e io sono sicuro che si avrà voglia nel senso che poi bisogna vedere anche se avrà voglia di tornare no penso di sì lo farà anche su quello ma anche sul concetto di cosa significhi perdonare una persona su cosa significa avere senso di colpa su anche sul fatto di minimizzare perché molte persone ovviamente hanno minimizzato quello che lui ha fatto rispetto ad altri cioè di nuovo visto che lui si è dato come filtro per l'umanità in modo così dicervi cioè ne sto parlando come di un idolo perché lui è un idolo e l'ha fatto su tanti argomenti su avere figli su tutti quelli che le persone appassionate di stand up non possono non conoscere e io penso che lo farà anche su questo e sarà se non esilarante profondo quello sarà veramente illuminante speriamo speriamo perché una mente comica così sarebbe un peccato se non riuscisse a trarre qualcosa di intanto una lezione per se stesso perché comunque si ha appunto ha sbagliato e devi capire perché ma io quello appunto sono convinto ho fiducia che lo capisca e poi ma poi è un mestiere in cui per te stesso significa anche per il pubblico poi al suo livello ovviamente ancora il più però è come se avessero messo in pausa la carriera di Bob Dylan o di Philip Roth cioè di quei grandi grandi narratori che non sono non fanno solo il loro mestiere ma proprio fanno uno scatto alla loro arte o di Roger Federer se Roger Federer si fosse masturbato si fosse masturbato di fronte a non lo so a Serena Williams a parte che a Serena Williams gli avrebbe sfondato gli avrebbe sfondato il cranio con un pugno però no gli artisti o sportivi che cambiano le cose la spostano di un'attacca e lui adesso è in pausa ma io penso veramente che tornerà una parola di cannone e che ci facciano anche vedere il film che gli è stato bloccato nelle sale si diceva che sui vari torrent si trova però veramente lì quello è stato proprio cioè c'è stato quel momento a cavallo fra 2017 e 2018 in cui veramente sembrava che i comici fossero le persone incredibile che poi sono solo i comici c'è stato un momento in cui sono uscite solo storie sui comici che sono degli poi appunto normalmente sono gli sfigati cioè nel senso si è comici anche per quello diventa comici anche perché si è degli sfigati in un sacco di cose c'era il batterista dei Motley Crue o di Guns N'Roses che dice ma io sono abbaccinato da questi questi modi Louis CK si è tirato fuori il pisello senza permesso sul tour bus dei Kiss noi mai noi mai abuso di potere nei confronti di una gruppi minorenne mai mai partite di Backgammon e invece ci siamo dovuti leggere i cazzi di Aziz Ansari però appunto Louis CK che invece ha sbagliato e non vediamo l'ora che torni e ci dica come ha sbagliato perché ha sbagliato dove si sbaglia e ci faccia ridere e ci faccia capire a tutti l'inghippo l'errore in cui si cade che secondo me quello sarà molto interessante si quando parlerà di potere quella è la cosa che gli uomini non capiscono cioè nel senso che appunto dice vabbè se è solo tirato fuori il cazzo davanti a una persona e invece è la parte del potere che ha esercitato per farlo e per imporre il suo tirarsi fuori il cazzo alla persona davanti è lì l'ingranaggio che a noi è più difficile capirlo sì perché io ci ho scritto c'è un pezzo che poi farò anche quindi penso sia il miglior pezzo che abbia scritto sicuramente quest'anno su questa cosa che noi ci noi realmente da uomini ci tramandiamo questa cosa per cui veramente pensiamo che vabbè ma ho tirato fuori il cazzo cioè nel senso scopa esatto cioè tra i bastoni c'era l'asso di bastoni è briscola preso è mio ho preso e invece scopri che no che non scopri ovvio che lo sai sì 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 vabbè senza entrare nei particolari però nel momento in cui hai il potere di pensare di farlo perché è l'ammirazione di qualcuno per quello che tu fai non lo so non vorrei chiedere a tante persone che si trovano in luoghi di potere se hanno si sono mai se sono mai abusi abusando del potere più di sesso quella è la cosa sì più di masturbarsi è un'altra persona che più che altro appunto è una cosa da sfigato però esattamente e speriamo che lui CK ci venga a far mostrare una via divertente che ci faccia capire più cose penso proprio di sì e so Luca Ravenna oltre che come dicevo prima fare il comico fa anche l'autore e lo sceneggiatore e credo abbia cominciato con il noto collettivo romano dei The Pills yes che salutiamo ciao ragazzi in bocca al lupo per tutto Atos Porto Ceramiche esattamente i giardinetti e ha scritto una volta da solista oramai o non so quanto tempo fa tre anni fa una web serie che secondo me è fichissima e forse the most underrated product degli ultimi anni che si chiama Non c'è problema una serie uscita che veniva pubblicata sulla Repubblica prodotta da Catleia che è fichissima credo sia ancora sul sito ma andatevela a vedere perché è veramente molto bella si chiama Non c'è problema e lì si è imbattuto in un altro problema dei lavori creativi cioè è uscita Non c'è problema molto bella e tutti gli abbiamo detto mazza bella che bravo è girata bene molto figa e poi che è successo? Ma ci sono state diverse questioni nel senso che è stato un lavoro che mi fu proposto da Catleia che aveva la possibilità di lavorare insieme a Repubblica.it che penso sia il sito numero uno d'Italia credo e praticamente abbiamo realizzato questa serie in cui aveva come il cornice me che parlo dal terapeuta e gli racconto le mie paure che era un po' una scusa poi per fare degli sketch come in quel momento ovviamente come tutti ero molto fissato con lui la serie di Louis CK o con Seinfeld tutte queste serie che avevano la stand up che è conosciuta in America e qui ancora non ancora che avevano come cornice e raccontavano qualcosa e ho fatto questi episodi belli nel senso io ho un grave problema a parlare di quella serie perché penso che sia bella ma non l'ho più rivista praticamente perché mi fa stare male nel senso che già parlarne mi era venuta una roba sulle mani a un certo punto una specie di tagli sulle mani perché stavo proprio male all'idea di non avere il controllo totale su questa roba e adesso venendo al punto la questione che andò su Repubblica.it che è appunto il primo sito d'Italia o qualcosa del genere e quindi mi sono confrontato con un tipo di pubblico di pubblico per cui quella serie non era stata fatta nel senso i lettori i visitatori del sito di Repubblica non erano il pubblico ideale di quella cosa e io ne ho ne abbiamo strapagato le conseguenze nel senso che ogni episodio creava dei problemi su Twitter su insomma è stato molto poco comico nel senso che non ho mai neanche poi parlato veramente perché è brutto quando tu fai una cosa e dici ma fa ridere cioè nel senso pensi che faccia ridere che nessuno può pensare di avere sempre ragione di far sempre ridere vedi che le persone intorno a te ridono sono contente e poi scopri che in realtà non è per tutti ma il principio è molto semplice per dirla in due parole è come se avessi fatto uno show che doveva andare alle 23 su Rai 3 l'ho mandato alle 2 di pomeriggio su Rai 1 e questo non si fa perché le persone che guardano un attimo a quell'ora sono diverse le persone che la guarderebbero a un'altra ora su un'altra rete con un altro piglio però poi dopo quel lavoro mi è servito per fare altro cioè poi ho lavorato a quelli che calcio come autore la serie per fortuna è piaciuta al nostro capo autore che era il regista del mio film preferito non dico il suo nome perché è un gobbo di merda no scherzo però è un gobbo di merda veramente si chiama Massimo Venier che ha fatto Tre Uomini in una Gamba e tutti i film più belli di Aldo Giovanni e Giacomo e gli era piaciuta e questo ogni volta che una persona mi dice ho visto non c'è problema mi è piaciuta molto mi sale un orgoglio come se fossi un nobile a cui ricordano un nobile a Waterloo ce l'avremmo fatta se no se ci avessero aiutato purtroppo io sono si sono Napoleone a Sant'Ella che dice porca puttana ce l'avremmo fatta se è solo se non si fosse alzato quel venticello di Levante che spostava i nostri proiettili sì quella cosa detta anche censura nel senso che mi hanno tagliato una puntata mi hanno è stato proprio bisogno tagliato una puntata tagliato delle inquadrature dove facevo vedere il giornale di Repubblica per paura che si offendesse l'autore dell'articolo per entrare nello specifico è difficile perché ma mi ricordo che tipo l'ordine dei commercialisti si è scandalizzato cioè una cosa una puntata dove io raccontavo al terapeuta di avere paura di diventare adulto e diventare adulto secondo me significa quando fai le prime fatture la partita IVA quant'autore ed è vero perché ti confronti con quel mondo per cui tu vedi da piccolo vedi tuo padre che ha a che fare con delle carte e dici ma che cazzo fa perché perché papà non è con me a parlare di calcio perché è perché è un uomo adulto deve compilare dei fogli se il calcio è la mia questione e non è il trovare del cibo è anche perché tuo padre fa queste cose e tu fai le prime fatture e io gli dicevo cazzo diventare adulto è come perdere la virginità quindi mi immaginavo di andare da una e si vede questa scena di andare da una commercialista che in realtà era una escort diciamo poi non facciamo diciamo lei mi propone di fare l'amore o non mi ricordo una cosa del genere e io poi divento violento con lei non la violento divento violento dicendo io voglio fare nero voglio fare soldi in nero che è una cosa che in Italia non si è mai detta e non si è mai fatta no mai non si è mai fatta prendi l'ordine dei commercialisti su segnalazione di una banda di commercialisti donne non so se esista la parola commercialiste non lo so beh non dovrebbe esistere il commercialista la commercialista le commercialiste mi piace pensare di sì mi piace pensare che esista un gruppo che suonano a liscio in Romagna che suonano le commercialiste e hanno mandato una lettera che poi è stata controfirmata e alla quale si è aggiunto un appello da parte del presidente dell'ordine dei commercialisti a Ezio Mauro il direttore di allora di Repubblica in cui gli dicevano togliete quello schiaccio offensivo verso il ruolo delle donne ovviamente non era offensivo nei confronti di nessuna commercialista il principio che diceva se io voglio evadere al carcere corrompo il secondino non vado a corrompere un professore di liceo per avere un libro sull'evasione psichedelica certo negli anni 70 e da lì in poi basta da lì è praticamente finita poi c'è stato pure il Bataclan io avevo un episodio con un arabo protagonista che fu tagliato perché comprensibilmente su Repubblica sei tu che hai aperto questo film io sono contentissimo a me interessa volevo che tu ne parlassi perché no è stato un lavoro del quale conservo intanto il lavoro con il regista Sebastiano Facco che è super talentuosissimo e bravissimo e poi con gli attori che insomma che c'erano Guia Scognamiglio che era la protagonista era la puntata più vista penso in assoluto sulla morte social erano proprio dei belli spunti guarda te puttana la miseria e ha vinto il primo web festival qualcosa a Roma generando in me una grande gelosia ma come io recito in tutte le puntate lei vince perché era molto brava per tutti è stato qualcosa per me è stato sia fonte di morte ma anche di ispirazione sì no no mi ricordo comunque appunto se avete la possibilità andate a vedere perché era veramente figa e particolare era una bella trovata molto bella trovata e invece come dicevi tu prima hai fatto quelli che fai hai fatto sì quest'anno ho solo collaborato ai testi di Edoardo Ferrari ho scrivato un pezzo al mese ho fatto uno sketch a ottobre penso sia stato uno degli sketch più brutti che abbia mai visto che sketch c'era e appunto nessuno per fortuna l'ha visto facciamo un piccolo campione dei videogiochi tipo FIFA è stato proprio brutto è stato proprio brutto da che l'anno scorso facevo le limitazioni di Marzullo che era fichissimo io sono la persona in Italia che ha portato la Gabber in Rai non so se mi spiego facciamo la parodia di Marzullo che anziché fare sottovoce faceva alta voce cioè io facevo domande agli ospiti urlando con dietro ho proiettato un rave degli anni 90 ad Amsterdam con la musica Gabber quest'anno ho fatto questo sketch orribile però però com'è quelli che è il calcio nel senso al di là di com'è fare gli sketch e come fare le cose com'è poi stare là e incontrare le persone cioè nel senso tu vai là e quindi ogni domenica viene Diego Abba Tantuono per dire e ogni domenica ci stanno gli ospiti fichi cioè comunque sia ha degli ospiti fichi quelli che è il calcio ha degli ospiti fichi com'è interfacciarsi con queste persone ma se fai l'auto cioè io principalmente scrivo gli sketch comici quindi gli autori avevano vari ruoli quelli sopra di me erano parte bravissimi tutti e e poi si davano cioè è difficile gestire gli ospiti poi un programma strano in cui hai le partite da commentare tantissime pezzi comici da inserire e gli ospiti devono anche parlare parlare con Abba Tantuono fa molto ridere era un contrapunto comico che faceva sempre lui arrivava praticamente digerendo da casa sua che abitava a due pali mi disse al tempo guarda che lui va in diretta con la damigiana di vino sotto il tavolo che era una battuta era una battuta perché non l'aveva sotto il tavolo e ce l'aveva sopra il tavolo non si vergognava di nulla questo no però sai cosa che gente talmente abituata a parlare e far ridere che cioè fa sempre ridere e la cosa difficile era che io con Edoardo secondo me avevamo un'idea di sketch proprio che vogliamo rifare le cose che ci piacciono i jalapas mai dire o dandini quelle cose lì e anche lì l'orario era un po' particolare nel senso che è il primo pomeriggio sulla Rai però ce l'hanno lasciate fare spesso le cose questa è stata la cosa figa di quelli del calcio molto figa abbiamo fatto dei belli sketch strambi per quel momento parlare con quei personaggi ma sono tutti in realtà è scialla sì come si dice da sempre più è grosso il personaggio più è tranquillo più è piccolo più si deve dare un tono perché ha paura di ok ok senti invece ho un'ultima pezza di cui voglio parlare io questo podcast mi sono reso conto che il privilegio che ho io di parlare con delle persone che mi interessano è che poi si manifesta con me che gli chiedo le pezze del lavoro beh fan più ridere rispetto a parlami dei tuoi successi dimmi le cose che ti fanno bene tu scrivevi con i The Pills sì e hai scritto il film di The Pills ora io ho avuto sul podcast Matthew Corradine Matteo Corradini e abbiamo un po' parlato del film cosa hai detto che non l'ha sentito fino a lì diceva tutto bene peccato per Luca Ravenna de merda l'odio vaffanculo no diceva che è stato cioè è stata figa come esperienza e che c'è stato un errore di percezione del film nel senso che il film dei The Pills se tu sei di Cuneo e sei un padre di famiglia di Cuneo non te lo vai a vedere la tua famiglia non la porta a vedere il film dei The Pills e quindi è inevitabile che il film dei The Pills vada male rispetto agli standard nazionali che è una teoria appunto voglio sapere no non sono d'accordo nel senso che in quel momento i Pills erano the next big thing della comicità e io ho imparato un batto lavorando con loro spero penso anche di avergli dato una mano però vabbè magari il padre di famiglia di Cuneo però non è neanche per lui quel film ah no infatti credo che il punto fosse quello non lo sarebbe stato in assoluto non puoi aspettarti un incasso come se avessi fatto il ciclone è sicuro ovvio per dire un film dell'altro ieri però no c'è da dire che The Pills dal nome si chiama The Pills erano piccoli sketch il passo più lungo forse sono vari motivi e poi quello che è nello spogliatoio secondo me è giusto che rimanga nello spogliatoio no certo non volevo chiedere era difficile tu sei bravo a fare i 200 metri fai la maratona è tutto un altro mondo un altro sport aveva sicuramente un sacco di spunti belli era complicato è difficile fare il cinema nel senso passare da sketch io mi ricordo che quello ne trassi dal podcast con Matteo quando abbiamo parlato del film è che è difficile passare da sketch cioè riportare al cinema una cosa che è fatta per sketch su youtube è proprio difficile beh se pensi a appunto un trio di comici che dopo anni di carriera in tv e a teatro sto parlando di Aldo Giovanni e Giacomo che non c'entrano niente con i più però per fare un esempio che per 20 anni quasi hanno fatto gli stessi numeri variandoli poi hanno fatti corti vanno al cinema e rifanno i loro grandi numeri cioè con degli sketch brevi anche con una storia semplice di loro che devono andare in Puglia a riportare sta gamba il matrimonio si sono ripresentati cioè se una persona non avesse saputo niente di Aldo Giovanni e Giacomo vedendo il film avrebbe scoperto tutto su di loro l'unico errore o forse il più grosso secondo me nel film è stato quello un po' presi dalla figata che c'era intorno a loro di non aver ripresentato tutto è una cosa che bisogna sempre ricordarsi di fare cioè stai entrando in un altro luogo stai entrando in un'altra stanza e quindi di buonasera siamo questi qua buonasera noi facciamo questo e quest'altro non è che entri e tutti già lo sanno perché erano in un'altra stanza e non ti hanno sentito parlare prima e questo è secondo me no certo però come dicevo pure a Matteo poi l'importante è non cascare nella pezza del fatto che la gente dice ah il film è andato male e godersi il fatto che invece non ha fatto un film al cinema detto questo fare un film è sempre difficile sempre difficile anche cioè giudicare non giudicare il lavoro degli altri però quando vedi un film che non ti piace prendevi dire fa schifo fa cagare una merda devi sempre pensare soprattutto se sei del mestiere dire avrei saputo fare di meglio cioè a me quel film mi ha molto insegnato poi a stare un po' più calmo nei giudizi delle opere audiovisive in generale perché non è semplice come sembra è giusto che il pubblico non lo sa la gente deve guardare le cose che tu gliele offerti c'è da dire anche questo che The Pills era gratis su youtube dici ma scusa mi arriva gratis perché devo vederlo pagando però ho avuto anche tanti fan zoccolo duro che sono andati l'hanno visto è stato in quel momento Roma era una figata incredibile fra The Pills esami la musica a partire poco prima dai cani bla 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 e adesso è rimasta la trap oh la trap guarda lo devo parlare la trap perché adesso invece parliamo di una cosa divertente parliamo di dark side ovvero Arturo il nome che mi ha dato mia madre Arturo che so essere il tuo idolo e volevo un commento al volo su questo baffo che adesso esifisce ma io spero che se lo tolga nel senso che lui è veramente veramente dei quattro della dark polo gang quando tu me li hai fatti vedere qua a casa tua io subito sono rimasto fulminato ma chi cazzo cioè mi fan cacchiare ma è una figata parevo di due anni fa penso sì c'era Cavallini era il pezzo un milione di visualizzazioni forse 2015 forse 3 fine 2015 sì e lui è veramente è proprio figo cioè quell'eroe in chic di anni 90 Kate Moss quella roba lì il problema è che mi sa che lo chic lo sta togliendo e sta rimanendo l'eroe però io ogni sera mi guardo le sue stories sperando che stia un po' meglio perché invece sta sempre un po' peggio sta sempre un po' peggio ma lui mi piace cioè è figo è un giovanotto figo che gli altri non mi stuzzicano gli altri tre non ti dicono molto poi vabbè il vero genio quello che proprio seguo e che mi sembra che penso che farà una carriera della Madonna è ovviamente Sick Luke Vabbè sì Sick Luke poi figo d'arte comunque sia sì sì però anche se mi fa sentire molto vecchio parlarmi in questo modo io quello per cui sto sbroccando è ovviamente il King in questo Quentin 40 sì perché non so come tutti gli artisti percepisci che ha qualcosa da sì beh sta cosa che si è inventato di troncare tutte le parole così gli ritornano gli accenti e risolve l'annuso problema della metrica nel rap in italiano sì che solo i napoletani possono risolvere sì esatto o gli inglesi che non parlano italiano esatto i francesi che ce l'hanno tutti sull'ultima e quindi invece in Italia si poteva fare solo a Napoli infatti il flow napoletano nel rap è fichissimo e lui troncando tutte le parole si inventa questo slang auguriamo ogni bene a Quentin 40 con la consapevolezza che però il disco dell'anno ad oggi l'ha scritto Noiz Narcos che insomma si è ancora una volta per quanto mi riguarda qualificato come il re sì ha scritto un album da paura non l'ho ancora sentito ho sentito solo la canzone Sin nome Moro che è fichissima sì vabbè ma loro sì ma loro sono tutti loro tutto quel gruppo a me sono passati tanti anni l'altro ciclano mi sa che tipo 2003 sì Matteo Corradini quando tornavamo a casa in metro dopo oppure non tornavamo perché lui eravamo a casa sua però viviva in metro esatto mi educava sulla scena rap romana e un po' come la stand up nel senso che il rap ad oggi se io fossi un giovane di 18 anni si sente rap vorrei fare se dovessi fare musica non è che dire eh amico prendi il tuo basso la mia chitarra facciamo l'indie rock facciamo ma oddio l'indie però l'indie rock le chitarre cioè adesso gli strokes non li fa più nessuno e fai rap e un po' la stand up nella comicità ma la stand up fare monologhi è la versione simile cioè non ho bisogno di la chitarra cioè vestirmi da pupazzo non che suona la chitarra sia vestirsi da pupazzo è chiara questa cosa che sto dicendo però è cambiato il linguaggio quindi si fa e si ascoltano questi nuovi artisti artisti questi giovani cavalli di razza sì esatto però c'è lui cioè quanti in 40 sta proprio era come Ercomi due anni fa sì che sembra la cosa più figa che è tutta e adesso sei un po' un po' fermato vediamo 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 e poi a un certo punto uno li perde di vista sì e vanno per loro cioè sì beh perché poi noi non siamo noi non abbiamo l'età non siamo noi il pubblico certo di riferimento di questa cosa qua quindi poi io e te in particolare che sentiamo questa musica ma non è che siamo appassionati non è che ci perdiamo le cose sentiamo quello che ci arriva e decidiamo quello che ci piace e quello che non ci piace e nel momento in cui uno di questi artisti esce dall'hype e quindi smette di arrivarti non te lo vai a ricercare mentre Noiz Narcos esce l'album io vado a sentire l'album di Noiz Narcos se uno di questi artisti qua non mi arriva nella mia bubble io è difficile che me lo vada a cercare ti ricordi quando mi dicevi a me piace molto Tedua e io adesso poi cioè tutti l'ultimo album non ho sentito niente ah è figo però quando quando me ne avevi parlato dicevo chi è sto tipo matto che balla tu vai spesso ai concerti molto meno di quanto vorrei si si e fa anche a gare i concerti quasi sempre quasi sempre perché il problema del rap è che è molto difficile che non venga fuori un mega karaoke perché se c'è uno che mette le basi e uno che canta è proprio la definizione karaoke quindi poi per essere figo il concerto serve che la persona sul palco abbia tantissima personalità che tutto il pubblico sappia le parole e quindi si crea il fomento tutti cantano le canzoni perché altrimenti sembra molto karaoke se sei un pischello di vent'anni cioè devi fare tante più ore di palco per imparare a farlo per esempio sono andato a vedere a Milano l'anno scorso Guepechegno e Marrakesh che spaccavano ed era comunque karaoke cioè nel senso erano loro due sul palco con le basi messe ho visto Gali a Vasto e Gali a Vasto un po' ci sono rimasto male Gali è fichissimo il numero uno però era proprio karaoke c'era lui super stiloso che cantava però sembrava una cosa un po' un po' per famiglie che è il motivo per cui per esempio Carlo e Franco Carl Brevo e Franco 126 spaccano perché loro hanno la band cioè hanno i fiati la chitarra la batteria il basso quindi vedi proprio una performance musicale e quindi è figo quando l'ho sentito la prima volta mi hanno colpito poi dopo perché è fighissima l'immagine il dipinto di Roma sì loro beh hanno proprio fatto una cosa loro cioè che comunque li senti e dici questi sono loro però poi dopo alla quarta canzone dici aspetta ma la seconda non è sempre la stessa traccia che sta andando da 25 minuti io sull'album non ce l'ho tanto sulle canzoni uscite dopo un po' sì nel senso argentario un po' dice vabbè ho capito però adesso escono gli album da solisti cioè non so se pure quelli sono separati non so se non credo stanno ancora insieme però escono anche i progetti solisti adesso esce Notti Brave o forse dovrei dire Notti Brave non so come si pronuncia credo Notti Brave è il disco da solista di Carl Brave e vedremo vedremo come sarà in attesa che esca l'album di Calcutta che di nuovo dovrà cambiare le regole il paradigma di come si fa musica in Italia e non vediamo l'ora e poi c'è il concerto di Liberato a Napoli ah il 9 maggio quella sarà una figata quello sarà fichissimo io non penso che andrò con tutto il bene non mi imbarco fino a Napoli per vederlo anche perché io Liberato scherzando ho già visto due volte dos volte la prima volta c'è stata Calcutta sul palco che era il Miami dell'anno scorso vediamo Liberato sale Calcutta io poi c'è volo grande e però c'era Calcutta c'era Izzi c'era Pristes c'era DJ Shablo che faceva i pezzi di Liberato la seconda volta era il Club to Club dove c'era Liberato incappucciato con altri due tizi incappucciati che comunque non è stato male per essere il primo concerto in assoluto era il Club to Club di Torino c'erano non so 10.000 persone è stato figo penso che a Napoli sarà un delirio sarà bellissimo poi sarebbe stato perfetto col Napoli campione d'Italia ma da purtroppo ma tu sai Liberato io ci pensavo l'altro giorno sai Liberato quanti soldi ha perso perde perché il Napoli non vince lo Scudetto cioè se Napoli era campione d'Italia Liberato diventava la canzone dell'estate italiana e invece no sarà comunque fichissimo però proprio pensavo in decine di miliardi di euro quanti soldi perde Liberato per la colpa è della Juventus la colpa come sempre la colpa di tutti i mali del mondo è la Juventus senza alcun dubbio sì però penso che sul concetto di hype Liberato potrebbe scrivere beh sì bravi bravi l'hanno costruito bene poi non so non so chi sia no non so il plurale perché comunque sia è un progetto che coinvolge tante persone al di là di Liberato poi appunto io sul palco ho visto tre persone incappucciate poi c'è la gente che fa i video c'è Francesco Lettieri che è il miglior regista ha creato l'immaginario video di tutta la musica negli ultimi 4 anni che fa i video quindi appunto sicuramente il progetto liberato sull'hype hanno tanto da insegnare a tutti e noi per creare questo hype e per chiudere questo podcast diciamo quindi le date che che contano 15 maggio Alcazzar a Trastevere Luca Ravenna in The Ghetto yes venite venite tutti venite tutte lo spettacolo io l'ho visto tutti i pezzi lo spettacolo fa molto ridere lo so per certo ci si diverte mi sto toccando mentre lo dice seguite Luca Ravenna sui social su facebook e su instagram a noi ci potete vedere tra l'altro oltre che al Pierro Lefou una domenica sia una no credo che la prossima volta sia il 16 la domenica prima lo spettacolo è il 13 forse è il 13 noi siamo il 27 maggio a Padova siamo il 27 maggio a Padova abbiamo parlato bene prima di Mattia perché ha messo su una serata all'aperto in un posto della Madonna che assolutamente ovviamente non ricordo come si chiami a Padova no certo però seratone di stand up siamo io te Stefano Rappone Niccolò Michela Girò Michela Girò sì che per allora si sarà tatuata la lupa su tutta la schiena Niccolò Falcone grandissimo comico grande organizzatore che secondo me è stato lui arrosicato prima l'ho detto il mio organizzatore era la Mattia Curma voi dovete Niccolò Falcone ha arrosicato ascolta non avete parlato della Vogaria Venezia la Vogaria Venezia è l'unico teatro io ti porto in barca il comico viene da me lo porto in barca Curma dove lo porta? è vero è vero poi sì beh Niccolò comunque anche lui come organizzatore no no spacca ma pure noi con i nostri open mic tra l'altro il prossimo appuntamento noi vorremmo dare una data però purtroppo il problema che dicevamo prima di Roma i proprietari del locale non pervenuti nel senso cinque whatsapp e due telefonate e ancora nessuna risposta aspettiamo fiduciosi volevamo fare una data all'otto poi è giusto che non rispondano perché è una serata dove viene un sacco di gente sì esatto la gente si diverte il pubblico paga gli organizziamo tutto noi il fonico lo paghiamo noi quindi certo per carità perché dovrebbero perché fare del bene quando puoi continuare non a fare del male dici tu fare del male cioè se Walter White a non fare niente a non rispondere al telefono esatto non rispondere al telefono per cui la serata dell'otto sicuramente è zompata e vediamo se ne riusciamo a fare almeno un altro a maggio e speriamo bene io tra l'altro il 27 maggio perché per come sono io adesso che sono entrato in quello Stargate io pensavo certo il 27 maggio vado a esibirmi a Padova il 26 maggio la Roma diventa campione d'Europa io vado a Padova senza voce cioè mi immaginavo proprio che dovevo prendere il treno nell'aereo da Kiev no non sarei andato a Kiev sarei rimasto a Roma e mi immaginavo proprio io senza voce ubriaco senza aver dormito tutto il tempo che andavo a Padova che nemmeno ci volevo andare perché la Roma è campione d'Europa e quindi volevo stare a Roma a dire scusate la Roma ha vinto la Coppa dei Campioni e per me era così e invece tant'è che avevo pensato di mettere in pre-allerta Mattia Corma dicendoli senti qualora dovesse succedere l'inevitabile io non vengo e invece ma non saresti andato a Kiev? no avrei preferito rimanere a Roma e io l'ho vista sono andato a Madrid ma è fatto bene la squadra aveva bisogno di me cioè il mio sentimento lo so però secondo me nel bene e nel male a Roma stare a Roma durante le ore successive a una vittoria di qualcosa perché poi vivevo all'Aquila e avevo dieci anni quando la Roma ha vinto lo Scudetto e secondo me stare a Roma nelle ore successive è un'esperienza unica che è bello fare ma scusami se te lo chiedo tanto ormai è finita ma Roma Real Madrid finale di Coppa dei Campioni a Kiev il 26 maggio inizia la partita alle 20.45 ti chiedo di dirmi chi secondo te nei tuoi sogni avrebbe segnato e come sarebbe finita guarda questa cosa non me la sono per niente immaginata un miliardo di volte Antonucci da fuori di mezzo esterno da calcio d'angolo battuta no guarda io l'ho proprio immaginata in un solo modo possibile cioè Perotti che al dodicesimo minuto si procura un calcio di rigore nell'unica azione della Roma così sul fondo boom boom dribbling calcio di rigore che che avrebbe segnato lo stesso Perotti e poi un casino così una cosa un'altra il Real Madrid ti segna nel secondo tempo ti segna Cristiano Ronaldo e tipo al settantesimo quindi in realtà pareggiato catastrofe gol gol due minuti dopo Edin Dzeko boom boom 2 a 1 finisce così 2 a 1 2 a 1 per la Roma e così doveva andare nella mia testa poi in realtà appunto ripeto è una partita che è una finale quindi può succedere di tutto se fosse giocata Roma-Real Madrid in finale dieci volte nove volte avrebbe vinto il Real Madrid e tu devi giocarti la finale sperando che sia cioè dando tutto sperando che sia la volta che tocca a te purtroppo la Roma ha perso una grande occasione che chissà quando ricapita perché poi sai andarsi a rigiocare una semifinale è la seconda volta nella storia che la Roma si giocava una semifinale delle Coppa dei Campi però adesso ci sono scuole inglesi che l'anno prossimo qualora la Roma dovesse qualificarsi come tutti speriamo per l'Europa League la Roma va in Champions la Roma io vivo nel mio Stargate la Roma in c'è col Cagliari e va in Champions ti dico la vera pezza della Roma è che noi adesso abbiamo di nuovo Mortacci vostra lo so che ve l'hanno rubata dopo l'anno scorso l'annoso compito di non farci alzare lo scudo in faccia all'Olimpico cioè noi adesso se la Juve c'è due coglioni vengono all'Olimpico a vincere lo scudetto l'anno scorso no però questa guarda è la volta buona che tifo Roma come da 12 anni non posso fare perché siamo stati grandi rivali per i primi anni in cui ero a Roma e comunque in generale a Roma non si tifa si ama esatto non si discute si ama come è scritto all'interno della mia maglietta della Nike assolutamente come è scritto al santuario del divino amore dall'imperatore Salcazzo tra l'altro vabbè è la volta buona che finalmente tifo De Rossi come avrei voluto perché io sogno ho sempre sognato di avere un giocatore di Milano all'Inter il mio idolo Nicola Berti era di Salsomaggiore Terme e l'ultimo è stato Bergomi che era milanese e si è ritirato nel 99 grazie a Marcello Lippi altro uomo di merda guarda caso grande allenatore della Juventus Football Club e quindi forza ecco quella sera lì di brutto col cuore forza Roma e basta no sì sì forza Roma forza Roma Juve e merda e forse su questa su questa nota straordinaria chiuderei di speranza chiuderei questa puntata di Tintoria grazie mille a Luca Ravenna grazie a te e grazie mille a tutti grazie mille a tutte ci vediamo il 15 di maggio all'Alcazar se no a Padova giusto ciao 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 Grazie a tutti